Sto leggendo una favola per i più grandini, sentite quanto è carina, c'era un re che una mattina portò a letto alla regina un piattino e una tazzina, lei gli chiese ma che dè l'invenzione del caffè e perché non ce l'hai messo? gli rispose la regina e te pare che soffesso, c'ho soltanto la tazzina, ci vorrebbe un'idea pazza, replicò su altezza al re, prova a metterci la pazza e inventò così il caffè. Ninna è pronto, da quel giorno natalina mi farai ogni mattina, qualità rossa della lavazza è la regina di questa tazza, buono buono è poesia, oh è lavazza eh. Soprattutto Fernet Branca Capire il Chad, il Marocco, Taiwan, l'Indonesia, il Canada, gli Stati Uniti, l'Africa nera, vuol dire capire la gente, la sua vita quotidiana, il lavoro, la cultura. Con 3.000 foto suggestive e tutte inedite, Paesi e Uomini è un modo nuovo di vedere il mondo e coi primi due fascicoli trovate l'Atlante e le guide d'Italia. Paesi e Uomini, una grande opera geografica ogni settimana in edicola. Fabri Editori, La Russa Grazie a tutti.